Continua a crescere l'allarme per gli attacchi dei lupi nelle frazioni dell'Aretino. Questa notte una strage di muffloni e pecore all'interno del parco di Lignano in località Rigutinelli. Tamani una carneficina a Lignano. Non ci dà tregua questi attacchi, i lupi continuano a circondarci qui a Rigutino, a Civitella, Piavaltoppo, adesso a Rigutinelli. 5. Gli animali ritrovati senza vita nei recinti del piccolo parco a pochi chilometri dalla città di Arezzo. Le carcase di tre muffloni e due pecore sono state trovate questa mattina sul posto il personale dell'asla veterinaria e quello del comune di Arezzo, proprietario del parco. Quindi cosa facciamo adesso? Si interviene o si sta ancora zitti? Sempre nelle ultime ore un nuovo avvistamento, ancora una volta in Val di Chiana. Un esemplare di lupo è stato infatti fotografato a Piavaltoppo, a pochi chilometri dalle abitazioni. Questa sera a Rigutino, dove si sono concentrati avvistamenti e la preoccupazione della popolazione esalita, si riunirà per la prima volta il comitato spontaneo dei cittadini che chiedono alle istituzioni di intervenire dopo i ripetuti attacchi che hanno provocato la morte di pecora, un'oca, ma anche animali da compagnia. Esatto, è questo che noi chiediamo, chiediamo un supporto, un aiuto, un contenimento, qualcosa che possano fare e darci una mano.